8.000 sigarette, 6.000 caffè per la notte più lunga della televisione italiana. Due cifre simbolo del clima di una notte che ha impegnato oltre 250 persone fra giornalisti, tecnici e operai e mezzo migliaio di invitati. Lo studio 3 di Via Teulada è stato il passaggio obbligato delle ansie, delle attese snervanti e di tutte le emozioni procurate da queste 25 ore lunari. Sono le 19.28 di domenica 20 luglio 1969, gli ultimi ritocchi, poi l'avventura. Allora, silenzio, pronti, mancano 30 secondi. Tutti a posto per il comune, grazie. Tutti a posto per il comune, grazie a tutti. Tutti a posto per il comune, grazie a tutti. Tutti a posto per il comune, grazie a tutti. Tutti a posto per il comune, grazie a tutti. Tutti a posto per il comune, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.